Il sindaco si restituisce alla comunità scolastica ma non solo la ristrutturata palestra delle scuole di Nereto. Oggi è un giorno di festa, abbiamo riaperto questa struttura scolastica dopo dei lavori, dei doppi lavori. Un intervento integrato, il primo di appena 130.000 euro per riqualificarla sotto il profilo del manto di gioco, delle luci a led, gli spogliatoi. L'altro, più sostanzioso e soprattutto più importante, l'adeguamento sismico attraverso dei fondi ministeriali intercettati dall'amministrazione nel 2022, oltre 850.000 euro. Il cantiere è partito nei primi mesi del 2023, riconsegniamo una struttura scolastica a norma, sicuramente anche più bella, alla scuola ma anche nelle ore pomeridiane alle nostre associazioni sportive, quindi alla pallacanestro e alla pallavolo.